I nostri Dreamers li abbiamo lasciati completamente trasformati e pronti per cominciare a giocare con noi. La prima prova da sorpassare è quella dello Split Song. Come? Non sai che cos'è lo Split Song? Piccolo dizionario di Music Gate. Lo Split Song. La prova dello Split Song è molto semplice. Viene fatto vedere ai Dreamers un piccolo videoclip di una canzone estremamente famosa. I nostri Dreamers devono scegliere un vocal che li aiuterà nella riproduzione del brano. Scelgo Joe. Joe! Perché è un bravissimo cantante. Io scelgo Kika. Per Standby ho scelto Kika che mi ha aiutato molto. Chi avrà cantato meglio? Cleo o Lorenzo? Vediamo. Standby, standby, non scappare. Molto difficili perché ovviamente cantare non è il mio genere, poi le canzoni non erano neanche tanto facili. Lo Split Song è andato molto bene anche perché sono stato accompagnato dai miei vocalist. Lo Split Song è andato molto bene anche perché sono stato accompagnato dai miei vocalist.